A pochi giorni dalla firma per i contratti dei lavoratori della TUA, la società unificata di trasporti, giunta dopo tantissime polemiche e contrasti, arriva una denuncia del Movimento 5 Stelle. A farla il consigliere regionale Domenico Pettinari che mostra con tanto di foto la situazione all'interno della sede dell'ex GTM di Pescara, oltre a tutta una serie di malfunzionamenti all'interno dei mezzi. È il risultato di una visita ispettiva fatta pochi giorni prima dal grillino. Ho trovato una criticità, le emettitrici di biglietti a bordo l'80% non funzionano, quindi l'utente che sale sul mezzo a quel punto è autorizzato ad evadere, ad non pagare. Non funzionano perché molte volte si inceppano, perché sono piene. Abbiamo trovato, nonostante un'officina molto all'avanguardia all'interno dell'azienda, con un reparto gomme, con un gommista, un appalto che ci costa tanti soldi l'anno e non si spiega perché non può essere svolto tranquillamente dal gommista interno e dal reparto interno. C'è il sistema AVM, che sarebbero le segnalazioni luminose sulle paline, le segnalazioni alle fermate dell'autobus, che sono state acquistate. Ogni mezzo è dotato di un satellitare, di una sim, per comunicare dove si trova in quel preciso istante il mezzo e a che ora arriva nella fermata, ebbene anche queste, l'80% non funzionano. Abbiamo trovato un carattrezzi interno all'officina che serve per trasportare i mezzi, un carattrezzi che ci dicono internamente da un anno è fermo solo perché non hanno fatto il passaggio di proprietà, servirebbe fare questo. Cosa comporta? Che anche lì c'è stato un appalto, si ricorre a una ditta esterna che fa da carattrezzi e ogni trasporto ci costerà, costerà l'azienda circa 750 euro. Tutto questo e tanti altri problemi, il deposito di penne fa acqua da tutte le parti, è una situazione, mi hanno fatto vedere delle foto allucinante, veramente allucinante, tutto questo, mentre si sbagliera che è stata creata la nuova società, la tua, e nessuno mai è andato a vedere quali sono i veri problemi. Questi sono i veri problemi, dobbiamo mettere mano a questi problemi.